Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del corecomo Piemonte. Ben trovati, io mi chiamo Simona Guida e sono una psicologa psicoterapeuta specializzata in psicologia clinica della riabilitazione. Lavoro presso APRI, associazione pro retinopatici e ipovedenti in Torino e presso il centro di riabilitazione visiva dell'ospedale oftalmico sempre in Torino e sono docente presso UNITO nei corsi di specializzazione per il sostegno. Sono qui per parlare dell'importanza della riabilitazione e della rieducazione sensoriale per la crescita delle autonomie e anche per la salute mentale, il benessere psicologico delle persone con disabilità visiva, ipovedenti e non vedenti. Salute mentale che spesso è messa a dura prova dalla sfida quotidiana di non trovare sufficiente accessibilità sensoriale e anche psicologica talvolta. La riabilitazione è un po' come un abbraccio che sostiene, solleva e stimola in maniera cruciale la crescita delle autonomie per la persona con disabilità visiva e quindi la reintroduce al vivere il quotidiano con più soddisfazione. Perché sia efficace la riabilitazione deve agire a due livelli, diretto e indiretto. Diretto direttamente appunto alla persona con disabilità visiva attraverso colloqui psicologici di consulenza, di sostegno, di psicoterapia e l'inserimento in gruppi di autoaiuto, gruppi psicoeducazionali, cioè quelli tesi a abituare la persona a utilizzare comportamenti ausiliari attraverso la rieducazione sensoriale e quando serve ausili tifologici, tiflotecnici, tifloinformatici per tutte le autonomie del quotidiano, dell'ordinario e dell'extraordinario. Gli interventi diretti invece sono rivolti al suo ambiente relazionale e fisico. L'ambiente relazionale sono i familiari e nel caso della scuola per esempio gli insegnanti, i compagni, tutto il personale della scuola. L'ambiente fisico sono gli spazi, gli spazi fisici della città, del territorio, sia antropici che naturalistici. Inoltre è importante in riabilitazione dosare interventi individuali e di gruppo. Gli interventi individuali sono diretti direttamente appunto alla persona, la sostengono in maniera individualizzata, la seguono in maniera individualizzata, mentre gli inserimenti in gruppo sono molto importanti e catalizzano dei meccanismi fondamentali di crescita dell'autostima, del senso di autoefficacia perché fanno leva sulla cooperazione, sull'immedesimazione e sul rispecchiamento. Il tutto seguendo ovviamente i tempi di ciascuno che sono diversi e con estrema naturalezza perché la riabilitazione è fatta di atti della vita quotidiana. Poi è importante anche in riabilitazione dosare interventi interni agli spazi dell'associazione o dei centri in cui si lavora e interventi invece fatti all'esterno, cioè sul territorio perché i primi comunicano accoglienza e protezione più intima mentre i secondi fanno sentire che il territorio è in grado di accogliere e di essere accessibile. Quindi in questo caso si ha un duplice obiettivo riabilitando la persona, riabilitando il contesto si riabilita la persona. È importante che la persona abbia la percezione di piccoli piccoli miglioramenti giorno dopo giorno perché così cresce la motivazione e anche il piacere di andare avanti e riappropriarsi di spazi di libertà della propria vita. Questo per sostanzialmente costruire fiducia in sé e fiducia anche nell'altro da sé, cioè nel territorio, nelle altre persone, in quello che ci circonda. Grazie dell'attenzione. Siamo con il presidente dell'IRFA Alberto Verzulli per parlare di queste attività che svolge l'ente di formazione dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale Fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, su tutto il territorio nazionale e anche in particolare nelle varie province della regione. Presidente Verzulli, questi corsi e queste attività formative dell'IRFA a chi si rivolgono? Si rivolgono soprattutto a coloro che hanno subito un'infortunio sul lavoro, quelle persone che comunque hanno rimasto un'invalidità permanente, quindi hanno bisogno di essere riformate nell'eventualità in cui dovrebbero essere ricollocati in altri ambiti lavorativi, così come i loro familiari, così ancora come alle vedo e gli orfani di quelle persone che comunque hanno perso la vita in ambito lavorativo, noi aiutiamo anche loro perché fanno parte, a prescindere di quello che è la nostra categoria di infortunati sul lavoro. Presidente, i corsi dell'IRFA sono di vario genere, come si svolgono e su quali argomenti? Allora, i corsi dell'IRFA sono prevalentemente corsi di formazione e di qualificazione, perché l'IRFA ha proprio questo, il proprio intento ha proprio questo, l'ANMIL ha inteso di studiare questo istituto proprio per farsi per dare la formazione e per rinventurare l'inserimento lavorativo. Ci sono corsi tipo aiuto cuoco, tipo murettista, gestione magazzini, sono quei corsi appunto anche gestione del verde, sono dei corsi che proprio puntano a far sì che le persone possano essere riqualificate in altro ambito, riposizionate in altro ambito lavorativo, perché magari quello che di fatto prima svolgevano non sono più in grado di svolgerlo. Ci sono anche altri corsi molto interessanti, noi stiamo puntando molto sulla squadra delle testimonianze e sullo storytelling, sono quei corsi appunto che danno la possibilità a queste persone di manifestare la propria testimonianza dell'incidente che hanno subito e di fatto questo viene fatto attraverso le scuole, noi interveniamo, per me è molto importante fare questo nelle scuole e nell'ambito lavorativo, perché facendo questo noi facciamo prevenzione, perché raccontare la propria storia alza molto l'attenzione degli studenti, quindi i lavoratori prendono coscienza e non solo studenti e i lavoratori, sono molto interessati anche a partecipare a questi avvenimenti, anche non ai corsi ma bensì ad ascoltare la testimonianza i professori stessi e i datori di lavoro. Presidente, queste meritorie attività dell'AMIL dunque si realizzano con corsi a distanza, quindi online e in presenza, diciamo il Covid ha insegnato molto in questo senso e quindi l'ente di formazione si è saputo adeguare attraverso le piattaforme di internet per svolgere questi corsi, quindi con docenti, professionisti ed esperti. Chiunque quindi ha bisogno di avere questo tipo di informazione può chiederla alle sedi territoriali per avere notizie o per iscriversi, oppure contattare direttamente il numero verde, ma è 800 180943 e in ogni caso chiunque ha bisogno di informazioni può anche andare sul sito www.anmil.it. Grazie Presidente. Ben trovati, AMAR Piemonte, Associazione Malattie Reumatici del Piemonte, oggi vuole affrontare il discorso molto importante che dopo una diagnosi di malattia reumatica non bisogna adattare la vita alla malattia, ma al contrario, adattare la malattia alla vita. Questo perché? Perché sicuramente avere una diagnosi di malattia cronica, di malattia che potrà eventualmente anche avere delle ripercussioni sul movimento, è un qualcosa che ci lascia assolutamente scioccati. Ma i nostri obiettivi, il nostro vivere a 360 gradi con gli impegni sociali, con i nostri interessi, gli hobby, le attività fisiche che abbiamo fatto fino a questo momento, non devono assolutamente essere modificate più di tanto perché possono tranquillamente essere condotte nonostante la diagnosi di malattia. Questo è un discorso che noi stiamo portando avanti dal 2022 con un progetto che si chiama 4 passi di salute nel parco che prevede non solo delle attività fisiche, noi abbiamo scelto il fit walking per aiutare le persone a ritrovare il movimento, ma anche dei momenti di incontro per approfondire quelle che sono queste tematiche molto importanti che tutti noi dobbiamo affrontare nel momento in cui abbiamo un diagnosi di malattia reumatica e non vogliamo in nessun modo che sia la malattia a vincere sulla nostra vita. 4 passi di salute nel parco si svolge all'interno di un parco, abbiamo scelto questa possibilità perché così abbiamo un'immersione nella natura e riusciamo anche ad affrontare il discorso della salute a 360 gradi, la mitica One Health e conseguentemente abbiamo la possibilità di socializzare anche all'interno di quella che è l'attività fisica. Importantissimo, visto che le patologie reumatiche colpiscono tutte le persone di qualsiasi età, l'assistenza anche ai bambini e ai giovani tra i 18 e i 35 anni perché ciascuno di loro ha delle necessità diverse. Sui bambini interveniamo con il progetto attualmente in corso che è meglio giocare nel parco, sui giovani abbiamo addirittura creato un gruppo, un gruppo giovani che si occupa di queste malattie. A questo proposito qui di fianco a me c'è Giovanni Mascarino, il responsabile del nostro gruppo Young e gli lascerei la parola per cercare di capire un attimo quello che vuol dire vivere da giovani con una malattia reumatica. A te Giovanni, grazie. Grazie Ugo, salve a tutti e tutte. Io sono Giovanni Mascarino, sono responsabile del gruppo giovani dedicato appunto a Mar Piemonte, l'associazione dei malattie reumatici del Piemonte. Prima di tutto nasciamo come realtà nazionale, ma oserei dire anche europea per volontà dell'Alleanza Europea di cui noi facciamo parte come affiliati all'associazione nazionale ANMAR e di conseguenza anche all'affiliazione europea EULAR. Siamo un gruppo dedicato ai bisogni e necessità dei giovani adulti. Cosa si intende per giovani adulti? Si intende una fascia d'età, ok, però comunque non abbiamo dei parametri particolarmente ristretti. Diciamo che noi siamo aperti a qualsiasi persona che stia affrontando un momento della vita particolare che sia il lavoro, la scuola, la famiglia, nel quale appunto viverla con una malattia può portare delle difficoltà. Noi appunto ci richiamo a progetti che possono essere di divulgazione, di informazione, ma anche comunque eventi che possono coinvolgere direttamente i giovani adulti malati reumatici per cercare insomma di alleviare le loro esperienze di malattia o comunque di terapia affiancandoli nel percorso di crescita che sia appunto lavoro, la scuola o comunque eventi quotidiani in società perché come giustamente ha detto Ugo, un malato comunque continua la sua vita ed è giusto che continui la sua vita nonostante comunque tutto quello che sta percorrendo che magari altre persone non percorrono. Ti ringrazio Ugo per la parola. Grazie a te, se volete saperne di più come sempre seguiteci sul nostro sito internet www.amarpiemonte.org e sui nostri social Facebook e Instagram dove troverete tutti gli aggiornamenti e tutte le informazioni man mano che arrivano. Bentornati in questa meravigliosa trasmissione dove il volontariato può raccontare le sue esperienze, i suoi progetti ed ecco io sono Lori di Missione SAIDA ODIV che da 5 anni opera con i collaboratori sia italiani che sul posto di progetti. Primo nacque il primo primo progetto Ninos Speciale dove aiutiamo bambini disabili nella loro salute, medicine e sono figli di famiglie veramente disagiate e povere. In questi anni man mano che si chiedeva alle famiglie autorizzazioni, firme per documenti notavamo che le mamme o mettevano l'impronta digitale o mettevano una croce. Quindi abbiamo cominciato ad indagare la motivazione di tutto questo problema ecco che nasce veramente un'altra piaga, l'analfabetismo. L'analfabetismo ha una percentuale veramente alta, siamo al 21% della popolazione guatemalteca specialmente nelle donne questo analfabetismo. L'analfabetismo cosa porta? Rimanere nell'ignoranza. Noi vogliamo portare avanti questo grande progetto e abbiamo deciso di sposare questa causa ulteriore grazie a persone che sono disponibili a sostenere bambini a distanza per la scuola anche perché possiamo vedere famiglie numerosissime con padre contadino i padri ci dicono o compro gli alimenti per mangiare o li mando alla scuola un contadino in Guatemala percepisce circa 7 dollari alla settimana e famiglie che magari si trovano dai 4, 5, 12 figli nessuno di loro può andare a lavorare e loro rimarranno nell'ignoranza perché finanziariamente non possono accedere alla scuola. Per questo abbiamo deciso in questi ultimi anni di dedicarci oltre agli altri progetti che stiamo continuando a sostenere ma l'importanza dell'istruzione. Istruire un bambino cosa vuol dire? Emanciparlo, farlo uscire dalla povertà, dargli una vita degna di quello che è veramente il cambiamento che può fare. Le nostre borse di studio sono minime ma per loro è un'esigenza di studio dei bambini. Noi ci sentiamo gratificati perché in questi anni abbiamo avuto la possibilità di vedere e toccare con mano un ragazzo Edison che con tanti sacrifici di studio è arrivato alla laurea in ingegneria forestale. altre ragazze che hanno terminato gli studi superiori e grazie all'aiuto nostro e dei donatori sono arrivati a entrare all'università dove potranno accedere a lavori degni, a istruzioni. Qualcuni di loro terminati lo studio con il nostro aiuto hanno potuto uscire dal Guatemala andare negli Stati Uniti altri sono venuti in Italia e hanno cambiato veramente la loro vita e con il desiderio di questo cambiamento della loro vita di poter aiutare la loro famiglia in Guatemala e ad emanciparsi e a poco a poco questo noi continueremo a dare questo sostegno. L'importanza di Missione Saida Missione Saida vuole cambiare la vita a questi bambini e sostenerli nello studio. Cosa vi devo dire? Potete andare a vedere il nostro sito potete trovare tutto quello che stiamo facendo giorno per giorno contatti con Guatemala e cosa devo dire? Veramente grazie a Rai3 grazie a Corecom per averci accolti averci dato la possibilità di raccontare Missione Saida e a tutti gli operatori dell'Associazione veramente grazie a tutti per questo grande lavoro e questa grande opera. Benvenuti a tutti e a tutti sono Sabrina Testa consigliera dell'Ordine regionale degli assistenti sociali del Piemonte e sono oggi con voi per presentarvi un nostro ospite a cui rivolgo la prima domanda. Ciao, chi sei? Mi chiamo Antonio Attina ho 52 anni e sono il presidente dell'Ordine assistenti sociali del Piemonte dunque sono un assistente sociale e ho incominciato questo percorso quasi per caso direi mi sono avvicinato grazie all'esperienza del servizio civile che mi ha fatto capire l'importanza di sostenere nella nostra società chi ha bisogno e di fare in modo che nessuno resti indietro. Che cos'è l'Ordine degli assistenti sociali del Piemonte? L'Ordine degli assistenti sociali del Piemonte raccoglie la comunità professionale regionale ne è la sua espressione e opera sia a tutela dei professionisti iscritti sia a tutela dei cittadini beneficiari degli interventi proprio perché possano usufruire di interventi di qualità dal punto di vista professionale. Quest'anno tra l'altro ricorre il trentesimo anniversario dell'istituzione della legge del nostro ordine in Italia e mi piace ricordare le parole pronunciate dal presidente Mattarella La Repubblica è grata per il lavoro svolto in tutti questi anni da migliaia di professionisti impegnati quotidianamente per la tutela dei cittadini. Cosa fa esattamente l'assistente sociale? L'assistente sociale incrocia la vita delle persone ogni giorno lavora con i singoli, con i gruppi, con le comunità contribuisce a produrre cambiamenti a progettare cambiamenti del benessere delle persone e delle comunità Quando una persona ha una necessità il lavoro dell'assistente sociale è quello di valutare la situazione e capire quali possono essere gli interventi più efficaci per aiutare questa persona A volte si tratta di connettere le risorse alla comunità Altre volte questa persona ha bisogno di un progetto individualizzato più articolato, più complesso Uno degli elementi fondamentali del nostro lavoro è la relazione che si deve in qualche modo comunque basare su una fiducia e si esprime attraverso un comportamento professionale che è teso a valorizzare le risorse che ogni persona ha e anche la sua capacità di autodeterminarsi Come si fa a riconoscere quando c'è bisogno di uno o di un assistente sociale? Siamo spesso portati a pensare che la fragilità sia qualcosa lontana da noi, diversa In realtà quando pensiamo alle persone in grave difficoltà economica senza fissa dimora, alle persone con disabilità alle persone con problemi di tossicodipendenza insomma dobbiamo pensare che la realtà è anche questa e che in qualche modo ognuno di noi potrebbe trovarsi per qualsiasi necessità a doversi rivolgere ad un assistente sociale E come lo fate? Guarda, per rispondere a questa domanda ci vorrebbe molto ma molto più tempo Posso dirti che è importante mettere in campo tutte le competenze scientifiche di cui siamo a disposizione per conoscere, comprendere, condividere con la persona le possibili strade e soprattutto in qualche modo scegliere insieme le strade migliori Serve la volontà di trasformare una crisi in un'opportunità e serve anche una presa di coscienza collettiva perché l'intervento non è soltanto un intervento tra persona e assistente sociale Come fare a contribuire a scardinare i luoghi comuni sulla professione? C'è spesso una scarsa conoscenza del ruolo dell'assistente sociale delle metodologie, degli approcci che utilizza Non è facile restituire alle persone quella percezione, quella consapevolezza di ciò che facciamo ogni giorno Spesso la comunicazione dei media è in qualche modo legata ad aspetti che sono critici riguardano eventi critici che non ci permettono di approfondire il ruolo positivo dei professionisti proprio all'interno della nostra società L'opportunità di raccontarci in prima persona quindi è molto importante non solo per noi ma anche per le persone che si rivolgono ai servizi Costruire una fiducia tra assistente sociale e cittadino è la cosa più importante e permette al cittadino di potersi affidare a dei professionisti che sono in grado di rispondere alle sue esigenze in qualsiasi momento I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale Buona visione Buona visione